Buongiorno da Casale Monferrato, ci troviamo all'interno dell'ospedale Santo Spirito. Qui con me il presidente degli alpini di Casale Monferrato, Gianluigi Ravera. Allora, come mai oggi qua? Oggi siamo qui perché vogliamo partecipare a questa presentazione di questa sala post-operatoria che è stata allestita grazie alla nostra iniziativa partita un anno fa. Ricordo che un anno fa lanciamo questa idea, questo progetto in occasione dell'assegnazione della medaglia d'oro al merito civico che la città di Casale ci conferì a fine ottobre. Da lì nasce quest'idea, meritare quella medaglia d'oro. Per meritare quella medaglia d'oro bisognava di nuovo impegnarci in un'attività di solidarietà. Abbiamo iniziativa bella, più bella, migliore, se non quella di andare verso chi ha problemi di salute. La salute è un bene che tocca tutti, belli e brutti, ricchi e poveri, quindi non fa distinzioni di sorta sulle persone. Noi vogliamo essere un tutt'uno con la comunità. Ecco perché ci siamo impegnati in questo anno a raccogliere fondi che sono serviti a comprare le attrezzature. Queste attrezzature, in accordo con la direzione dell'ASL-AL, sono state installate, sono già in funzione e oggi approfittiamo di questa occasione per presentarle alla stampa e alla comunità. Noi abbiamo piacere che queste attrezzature servano veramente al bene della gente, dei cittadini casalesi e i monferrini, di tutti quelli che sono gli utenti di questa purtroppo, ahimè, struttura. L'ospedale di Casale è sempre stato all'avanguardia su tante cose e il fatto che Casale, la chirurgia di Casale, possa avere in dotazione queste attrezzature è per noi motivo di particolare orgoglio. Ricordo che anche qui vogliamo onorare quel titolo di benefattori in signi che nel 2007 ci venne conferito proprio dalla direzione dell'ASL per i lavori e per gli impegni che avevamo già a quel tempo portato avanti per l'ospedale. Noi ci auguriamo che siano sempre utilizzate al meglio le strutture, sono frutto di grandi sacrifici, sono frutto di un lavoro fatto con dedizione, con impegno, soprattutto perché gli alpini di Casale hanno uno slogan il nostro fronte è la solidarietà e allora in questo senso noi vogliamo continuare ad operare e a vivere il nostro modo di essere associazione con la società, con la nostra città e con il nostro territorio del Monferrato.